In questo momento la nostra applicazione elenca tutte le informazioni che noi abbiamo a disposizione ovviamente questo può essere scomodo per l'utente soprattutto in fase di ricerca di informazioni AngularJS ci mette quindi a disposizione uno strumento che permette di andare a effettuare un filtraggio delle informazioni che devono essere mostrati all'utente questo viene fatto utilizzando quelli che vengono definiti dei filtri in questo caso stiamo creando un filtro che utilizza un modello di ricerca che viene popolato di volta in volta in base all'informazione che l'utente va a inserire quindi l'utente inserirà delle informazioni in un campo di input attraverso la direttiva ng-model verrà settato un valore all'interno del modello di ricerca e questa informazione verrà poi utilizzata per filtrare le informazioni che di volta in volta verranno visualizzate dall'utente ad esempio all'interno della nostra applicazione se andessimo a popolare nel nostro campo input con dei dati le informazioni che verranno mostrate saranno limitate a quelle che corrisponderanno ai filtri di ricerca un altro modo che ci viene messo a disposizione per effettuare una migliore visualizzazione delle informazioni per la parte degli utenti è l'utilizzo del filtro order by questo filtro utilizza come prima informazione un predicato ovvero il criterio da utilizzare per la ricerca e una direzione crescente o decrescente all'interno del sistema ovviamente questi valori, il predicato e la direzione dovranno essere settati all'interno dell'applicazione questa informazione può essere settata quindi utilizzando la direttiva ng-click la direttiva ng-click assegnerà i valori al sistema di volta in volta quindi nel momento in cui verrà cliccata l'intersezione della colonna con il nome verrà settato il valore del predicato e la direzione che questa acquisirà la stessa cosa possiamo fare poi per l'area e per la popolazione a questo punto se andiamo a vedere la nostra applicazione nel momento in cui cliccheremo sull'intestazione della colonna popolazione in questo caso vediamo che il criterio di ordinamento utilizzato per mostrare le informazioni corrisponderà appunto al predicato che noi abbiamo settato per questa colonna vediamo ora come introdurre all'interno della nostra applicazione un componente esterno per visualizzare il confronto delle informazioni che abbiamo così estratto tra le diverse nazioni per fare questo utilizzeremo un componente Angular Chart che va a introdurre la libreria D3 all'interno di Angular creando delle direttive custom in particolare andremo a creare degli histogrammi in cui vi rappresentare la popolazione delle nazioni che di volta in volta andremo a selezionare per fare questo iniziamo andando ad installare all'interno della nostra applicazione le dipendenze necessarie in particolare dobbiamo andare a installare Angular DChart che sia la libreria D3 una volta scaricati vedremo che all'interno della nostra applicazione troveremo queste due librerie disponibili per essere utilizzate andiamo quindi a includerle all'interno della nostra applicazione una volta introdotte all'interno della nostra applicazione dovremmo dichiarare questi moduli come dipendenze della nostra applicazione per fare questo all'interno della definizione della nostra applicazione andremo ad introdurre un elemento che è la dipendenza necessaria a far sì che la nostra applicazione possa essere eseguita correttamente andiamo a vedere questa dipendenza è dichiarata all'interno del modulo Angular DChart dove viene definito un nuovo modulo che dichiarerà una nuova direttiva che potremo utilizzare all'interno della nostra applicazione questa libreria, questa dipendenza può essere utilizzata attraverso l'utilizzo appunto di una direttiva che non fa altro che introdurre all'interno del markup del nostro elemento un nuovo tag HTML questo tag è il tag di chart isto in cui andremo a definire una serie di attributi in particolare la larghezza e altezza dell'istogramma il valore degli assi x e il dataset da utilizzare per la rappresentazione questo dataset in realtà non esiste attualmente il dataset del grafico e quindi sarà necessario andare a creare il dataset di volta in volta la creazione di questo dataset in questo momento la effettueremo utilizzando la chiamata a una proprietà, a un metodo del controller in cui ci troviamo il controller, scordiamo, è il nationalist e quindi avremo necessità di andare a creare all'interno di questo controller un suo metodo la creazione di un metodo può essere fatta dichiarando all'interno della variabile di scope una nuova funzione questa funzione creerà un elenco di nazioni che dovranno di essere renderizzate all'interno del nostro diagramma quindi creerà all'interno della variabile scope un nuovo valore che conterrà i dati delle nazioni che di volta in volta vorremmo andare a mostrare una volta fatto questo quindi vedremo che la nostra applicazione nel momento in cui andremo a scegliere queste informazioni effettuando il click sul metodo update graph che andrà a invocare attraverso la direttiva ng-click il nostro metodo mostrerà i diagrammi delle nazionalità scelte nel momento in cui aggiungiamo nuovi elementi all'interno della nostra configurazione possiamo procedere con l'aggiornamento del nostro diagramma effettuando una nuova chiamata al metodo update graph grazie a tutti